signori buongiorno e bentornati sul canale del master k io sono il master k e il vostro ospite su questo canale due settimane fa nell'ultimo video del d20 system abbiamo visto la teoria del calco del grado di sfida e abbiamo detto che il grado di sfida si calcola partendo dal presupposto che il party sia formato da un gruppo di avventurieri standard cioè formato da quattro personaggi un incantatore arcano uno divino un personaggio a combattimento e un personaggio abile ovviamente il fatto del grado di sfida sia calcolato in questo modo si porta dietro due principali problemi che dovete sempre tenere a mente quando voi andate a calcolare nella pratica il grado di sfida per i vostri incontri e la vostra quest questa settimana cominciamo a parlare del primo di questi due problemi cioè cosa succede quando il party non è formato da quattro giocatori sì mi sa che dovrete rifare i calcoli perché il calcolo del grado di sfida funzioni il party deve essere formato da quattro personaggi tutti dello stesso livello o grosso modo dello stesso livello ora fare in modo che i personaggi siano tutti dello stesso livello è molto semplice quando distribuite l'esperienza fate in modo che l'esperienza venga distribuita equamente tra tutti i giocatori evitate di dare più punti esperienza all'uno o all'altro e grosso modo il livello del party dovrebbe essere garantito nel caso potete anche eliminare del tutto il calcolo dell'esperienza per quanto riguarda l'attribuzione dei giocatori ovviamente e farli salire tutti a intervalli prestabiliti durante la quest questo normalmente viene chiamato il metodo delle mind stone lo approfondiremo poi piuttosto in un prossimo video controllare però quanti siano i personaggi del gruppo e in realtà controllare quanti siano i giocatori al tavolo potrebbe andare al di là delle vostre capacità come master potreste avere problemi a trovare quattro giocatori per la vostra quest magari riuscite a avere soltanto due o tre giocatori nella vostra zona o al contrario potreste trovarvi con tavoli molto grossi da 6-7 persone ed è brutto mandare via qualcuno dicendogli a te non puoi giocare perché siamo già troppi senza contare che almeno io personalmente se posso cerco di avere sempre più giocatori almeno 5 o 6 giocatori al tavolo quando si tratta del d20 anche solo per il fatto che se qualche giocatore per qualche motivo dovesse essere assente si possa giocare lo stesso e non bisogna rimandare la sessione un giocatore può cercare di essere presente più possibile delle volte ma ci sono impegni di lavoro o semplicemente sta male non può venire a giocare la soluzione logica in questi casi potrebbe sembrare essere semplicemente quella di abbassare il grado di sfida degli incontri per i parti con meno di quattro giocatori e alzarlo per quelli con più di quattro giocatori nella pratica però questo non funziona del tutto il grado di sfida di un mostro è calcolato partendo dal presupposto che gli avventurieri che lo incontrano siano del livello del suo grado di sfida un mostro con grado di sfida 6 la viverna di cui abbiamo parlato nello scorso video ha un bonus di attacco calcolato per colpire grosso modo la metà delle volte la classe armatura di un personaggio da mischia di sesto livello e ha una classe difficoltà del veleno nel suo cungiglione pensata per essere ragionevolmente superabile da un personaggio di sesto livello potrebbe essere un incontro difficile per cinque personaggi di quinto livello potrebbe essere un incontro relativamente più facile per tre personaggi di settimo livello ma già un gruppo di ottavo livello fosse anche solo composto da solo due personaggi la troverebbe un incontro talmente facile da non essere interessante la probabilmente la tirerebbero giù in un paio di round senza mai essere effettivamente al pericolo e al contrario anche sette otto personaggi di quarto livello la troverebbe un nemico inaffrontabile probabilmente non riuscirebbero a colpire non riuscirebbero a superare la sua classe armatura la maggior parte delle volte e sia i suoi attacchi che il suo veleno sarebbero talmente letali da ammazzare un personaggio per round in entrambi questi casi è ovvio che sicuramente l'incontro non costerebbe al party un quarto le sue risorse deperibili o ne costerebbe molte di meno o ne costerebbe molte di più in casi come questo la cosa migliore da fare è non considerare i giocatori come se fosse un unico party ma dividerli tra di loro in parti più piccoli da approssimativamente quattro giocatori se ad esempio avete sei giocatori al tavolo considerateli come se fossero due parti distinti da tre giocatori e agite di conseguenza quando andate a creare gli incontri se ad esempio tre giocatori di sesto livello potrebbero affrontare come incontro facile un grado di sfida 5 i vostri due parti da tre giocatori affronteranno due gradi di sfida 5 poi sommati assieme come abbiamo visto nello scorso video due gradi di sfida 5 assieme formerebbero un grado di sfida 7 ma in questo caso il grado di sfida totale è formato da due mostri diversi entrambi con un livello di potere compatibile con il livello di potere dei giocatori che effettivamente li vanno a incontrare ricordate che comunque nella stragrande maggioranza dei casi è sempre meglio avere incontri con mostri più scarsi ma in maggior numero approfondiremo poi bene l'argomento quando andremo a parlare dell'economia delle azioni più avanti ma per ora diciamo che più sono i mostri più diventa gratificante per i giocatori sconfiggerli perché avranno la possibilità di muoversi di interagire anche in maniera tattica con la griglia di battaglia dove ci fosse un unico mostro grosso i giocatori alla fine si limiterebbero a circondarlo e picchiarlo a turno senza preoccuparsi più di tanto di fianchi di essere controcaricati di effetti diversi che possano avere se al contrario il vostro party è sottodimensionato cioè formato da meno di quattro giocatori diciamo per esempio che è formato da due giocatori sicuramente vi conviene abbassare il grado di sfida di uno due punti per evitare che l'incontro sia effettivamente troppo difficile e vi conviene anche in questo caso fare il procedimento opposto cioè invece di mettergli contro tanti avversari scarsi è preferibile mettere contro uno solo ma più forte che per loro più facilmente gestibile tanto essendo solo in due non c'è il problema che i giocatori si annoino perché c'è un solo mostro da menare la cosa migliore da fare in questi casi però non è tanto quella di agire sul numero del grado di sfida ma agire direttamente sulla frequenza degli incontri se un party di quattro giocatori consuma un quarto delle proprie risorse per sconfiggere un grado di sfida pari al loro livello medio un party di due giocatori consumerà il doppio quindi consumerà la metà delle loro intere risorse per sconfiggere lo stesso grado di sfida se un party normale può fare quattro incontri prima di dover riposare un party di due giocatori è meglio che faccia solo due incontri in cui effettivamente spreca risorse deferibili prima di essergli concesso la possibilità di dormire recuperare gli incantesimi comprare nuove pozioni e via dicendo piuttosto sopperite agli incontri che non possono fare in combattimento con incontri sociali o incontri di diversa natura magari enigmi in cui i personaggi devono comunque agire ma non è previsto che spendano risorse deperibili diciamo che anche per questo video è tutto sì mi sono voluto tenere un attimo più stretto sui tempi perché il grado di sfida è un argomento complesso e non voglio fare troppi video troppo lunghi che appesantiscono il tutto perché poi si genera solamente confusione per quanto riguarda l'altro grande problema ne andiamo a parlare beh oramai l'anno prossimo nel prossimo video del d20 system fino ad allora però come sempre mi piacerebbe sapere come vi arrangiate voi per il calco del grado di sfida se vi è mai capitato di incontrare mostri con un grado di sfida troppo alto troppo basso o altre situazioni in cui il calco del grado di sfida non sembrava essere così accurato e soprattutto voi come master come vi comportate nelle situazioni in cui non potete effettivamente calcolare bene il grado di sfida perché avete troppi o troppo pochi giocatori come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi e schiacciate sul tasto della campanella io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video